ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi ed eccoci qua per un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri orologi ai vostri video sempre è sempre curioso no trovarsi qua e avere davanti quattro cartelle quattro file più che altro così con un numerino davanti che impersonale che non significa nulla e sapere che all'interno di quel numerino all'interno di quel file in realtà c'è la vita di un appassionato di orologi no la curiosità di sapere oggi mi capiterà quello matto perché capitano quelle matti mi capiterà quello che è affabile che ci porta all'interno della sua collezione narrandoci magari anche di orologi particolari vintage come è già successo no quelli che stai con la bocca aperta a guardare o magari ci capiterà lo sborone con gli orologi da 100.000 euro tutti uno di seguito all'altro senza nemmeno sapere cosa c'è dentro no per assurdo può capitare cioè praticamente è come una scatola di cioccolatini no non sai mai quello che ti può capitare funziona così detto questo io passerei subito no non passerei subito a vedere i video perché abbiamo l'orologio del giorno che ancora una volta questo bellissimo brightling cronomat 40 mm di diametro cassa bracciale simpaticissimo detto anche a cartucera da non confondere con il bracciale a fuciliera che è un'altra roba bello bello assai ora il periodo del cronomat no vado po una settimanetta non dosso po cambio faccio così chiaramente in quella settimana non è che indosso solo questo no poi alla bisogna no magari sono lì davanti alla televisione fuori e freddo no dentro a casa cercando guardi qualcosa col plate fino qua ti metti un vintage mentre guardi la televisione così per rimembrare i tempi che furono va bene da mischerate lo dette si che lo dette quindi possiamo passare tranquillamente al primo video con l'indice infuocato che darà un colpo mortale un mortal combat alla barra spaziatrice finché regge regge fuoco ciao davide ciao anni dalla provincia di napoli giovanimenti per il canale per la canale chat telegram se volete iscrivetevi pure alla chat telegram trovate il link sotto al video ecco non lo dico mai sotto al video no video poi c'è altro c'è tutta una serie di informazioni così dove c'è instagram dove c'è la chat telegram c'è i dialoghi consigliati il mio sito web comitatori del tempo punto it c'è tutto un sacco di roba sotto al video c'è un riquadro apposito dove si vanno messe le informazioni che molti di voi non sanno nemmeno che esiste e poi mi vengono a chiedere ma come si fa a cedere su una chat telegram e porco di quel giuda impestato vai lì sotto ci sono tutte le informazioni del mondo detto questo guardiamo l'amico qua che c'è una serie di allora c'è la chitarra yamaka la vedo che è una yamaka la chitarra vabbè simpatica poi gli eagles live un bel gruppetto simpatico enzo avvitabile non mi dicevo nulla non c'è la chitarra distorta è la doppia cassa quindi non mi dice nulla poi arley david sulle moto poi lì c'è anche quella lì è un indian quella lì sul motorcycle repair and sales è una indian è una cosa simpatica sia un motociclista anche un amante dell'america perché vedo la giù c'è un poster con montagne rocciose laggiù cosa sono vabbè quello che fa sentiamo gli orologi dai 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 oggi ti mostro la mia raccolta ti ho anche attrezzato l'angolino per farti comprendere diciamo le mie passioni in realtà ti mostro una parte della raccolta per ovvie ragioni di tempo altrimenti mi cestini il video e c'è ti faccio solo una carrellata diciamo rapida di quelli che sono bravo i miei orologini e poi uno di questi ma mi fermo un secondo così ti frego io e sennò c'è lo spinnaker qua c'è un secco presage lassù c'è un secco 5 di quelli non lacco flieger un citizen suiosa con i piccoli secondi un mido ocean star un altro mido lì che dovrebbe essere multi fort nima che un micro brand e k watch che un altro micro brand ce l'ho anch'io e k watch squale detto anche squall bravo bravo box vuol che so fermo e ne parliamo più nel dettaglio subito e vedo che parte subito mostrandoti l'ultimo entrato in collezione e questo jema scarier carino carino è un 40 mm di cassa 39 e mezzo in realtà questo non l'ho mai visto sul canale un orologio nuovo uscito da poco non hai visto perché è uscito a poco appunto non ho ancora potuto metterci le mani sopra volentieri magari lo farò vedo che la sua caratteristica principale quella di avere una ghiera bella ingombrante bella spessa che praticamente gli dà che una certa personalità mi ha colpito perché diciamo questo stile simil vintage con questi indici queste simil brodaro un orologino molto carino montra un calibro cm 2000 di e ma avevo letto che probabilmente una revisione di questo calibro perché avevo letto sulla chat che qualcuno non si era trovato bene non c'era il fermo secondi come riconfermo corsa lo scatto fantasma in realtà questo non ha nello scatto fantasma e dallo stop dei secondi quindi 200 metri di impermeabilità con una vite un orologino molto carino vado oltre ti faccio vedere il mio marf classicissimo non ci soffermiamo molto bello un orologio visto e rivisto questo è quello da 42 mm di diametro molto sottile molto bello molto bello indossare col suo cinturino originale molto 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 carino cari poi vi faccio vedere un frederico stant bello ai live certificato cost cassa 40 mm bianco l'hai preso è un orologio con bracciale integrato ricorda un po le forme gentiane preso bianco per variare un po diciamo le colorazioni dei miei orologi questo lo sai te io dico sempre quando vedo quelli bianchi magari sto compo il naso perché non si legge questo quasi legge poi ognuno di noi sa non è una collezione che cosa vuole se uno c'è tutti gli orologi neri e blu a un certo punto come io volevo un orologio arancico quadrante arancione no altrimenti si butta sempre sul nero si va sempre sul nero chiaramente uno deve guardare quello che ha lui in casa e sceglie anche in base a quello una voglia di un orologio bianco lo prende bianco poi detto sì le classiche forme gentiane che ormai diciamo insomma dai non c'è una casa dico una sola casa orologiera che non abbia fatto un orologio a bracciale integrato è proprio la cifra stilistica anche degli anni diciamo degli anni 2020 dai gli anni 20 di questo secolo in campo orologio vanno ricordati per il bracciale integrato revival del bracciale integrato e per i quadranti colorati come non mai perché in passato negli anni passati tutti questi colori non ci sono mica mai esistiti è il viola e rosa verdino verdone verdaccio no no quindi bracciale integrato e quadranti colorati sono la cifra stilistica del del ventennio degli anni 2000 del secolo e insomma è 2020 si è capito oggi che fa il suo simpatico da indossare pesanti cioè esce nella sua configurazione con cinturino di gomma in alternativa a questo bracciale un orologio che indosso con piacere con piacere soddisfazione poi ti faccio vedere il mio glissin arman da 40 millimetri dial blu bello blu solel molto carino se ci ho cambiato il cinturino messo questo marrone un scuro un orologio che segna le 24 ore come ovviamente saprai da taglio rosso molto sottile un orologio dall'editeggio particolare mi piace molto lo indosso con estremo piacere piacere è gioviale poi ti faccio vedere il mio campanile come lo definisci tu tu do royale ma scherzo io orologio che può piacere o meno gli indici romani ma ti assicuro che ha una vestibilità certo particolare veramente molto comodo consiglio a tutti di provarlo al polso prima di definirlo perché ha una vestibilità veramente eccelsa orologio 41 mm di diametro con questo bracciale comodissimo si adatta perfettamente al polso devo dirti che con 2000 euro porti a casa un day date ed è un orologio spettacolare veramente veramente molto bello molto bello poi ti faccio vedere il mio orologio gioiello cos'è che è questo prado golden horse 1957 è limitata così dicono ma non sono limitata onestamente ne vedo tantissimi no è limitata ragazzi volevo dire che mi sono dimenticato di dare i top e finora mi sono dimenticato ce ne sarà stato qualcuno sparso quella al tudor il tutto magari era un topino anche sto qua il topino torno edizione limitata 1957 pezzi per ogni colore per ogni configurazione e siccome questo qua è un orologio che è andato per la maggiore in italia mentre all'estero non se l'è filato nessuno perché proprio al di fuori del dello stile rado no all'estero cioè poi quando si parla di estero si intende anche in oriente no in cina nei paesi arabi dove c'è nei soldoni vogliono gli orologi grandi grossi quelli della rado da 43 mm in ceramica con gli accenti in oro vogliono quella roba lì siete gli presenti il golden horse da 37 mm con bracciale a chicchi di riso e tutto bello affabile simpatico gioviale e diciamo serioso e non truccagaro quindi all'estero non è andata per niente questi 1957 pezzi per colore praticamente sono quasi tutti andati venduti in italia e laddove anche il buon giacomo volte me l'ha raccontato è riuscito a reperirli è perché erano quelli destinati ai mercati esteri che poi non li hanno più voluti e sono ritornati e fa li prendo io l'ha presi lui perché sa che in italia vanno per la maggiore no e come fanno ad andare per la maggiore un orologino così proprio quel sapore no di orologio compatto elegante ma sportivo che un po sulla falsa riga dei day just degli acquaterra dei mi viene in mente anche l'eterna contichi no in quella sua configurazione così compatta è un orologino che è stupendo questo quadrante è ipnotico poi il verde può meno di tutti però si che restituisce questo quadrante sono davvero qualche cosa di eccezionale 37 mm di diametro lo indosso comunque con piacere nonostante abbia un polso da 19 e mezzo quasi 20 bracciale chicchi di riso che si vede da 300 metri di distanza è veramente un orologio ben fatto che merita tantissimo tantissimo poi ti mostro questo Longines Avigation tutto bianco questo è un neo vintage fine anni 90 cronometro sottile dovrebbe montare un età cronografo orologio comprato ovviamente di secondo polso secondo me questo qua monta un età 28 94 secondo me sì se i piccoli secondi continui sono quelli a ore 3 è un età 28 94 cioè col calibro modulare mi piace nonostante il quadrante bianco io lo trovo leggibile nonostante vedi i riflessi è un bello orologio simpatico diciamo poi dimostro questo nomos bello questo è un tangente 39 platin grau e davide nomos diciamo con questo stile bauhaus caratteristico mi ha veramente colpito perché lo faccio vedere anche dietro perché questo merita i vari citizen ti so lasciano il fondello aperto questo veramente di essere ammirato e lo so la parte posteriore questo è un calibro dub 3001 lavorata anche la platina misti e nomos delle finiture davvero davvero eccellente eccels quadrante classico molto sottile molto elegante molto tutto molto è un orologio che da molte sono molte soddisfazioni bravo poi ti faccio vedere il mio tutto tutto ancora top tiene black bay 41 chi era rossa con il suo cinturino stile vintage e bracciale non è preso con bracciale il suo bello che dire tutor nacque con l'idea di permettere a chiunque di avere un orologio per propria missione del fondatore con calma di avere un orologio diciamo di estrema qualità portata di tutti devo dirti che confermo pienamente perché la qualità di tutor è eccelsa questo è il cosiddetto ghiera rossa ottimo orologio si vada però bracciale suo poi dimostra il mio moon watch bello top onest questo è il 3861 doppio zaffiro bravo bracciale spettacolare una comodità unica rispecchia perfettamente le proporzioni auree se dovessi scegliere un solo orologio da tenere in collezione addirittura vorrei questo perché è veramente un orologio molto molto bello ecco se uno dovesse scegliere un solo orologio a tenere in collezione io non lo so se scegliere lo speed master cavolo sceglierne solo uno è dura ora c'è da dire che ogni volta che indosso uno di quelli che mi piacciono tantissimo e dico a volte indosso come indosso questo questo qua potrebbe essere tranquillamente l'orologio l'unico orologio da tenere poi posso vedere anche gli altri e mi capita di dirlo anche col per esempio con il brightling cronomat la stessa cosa mi capita con il day just acciaio e oro poi in realtà non è adatto tutte le occasioni no oppure mi capita anche con con il longin legend diver potrebbe essere tranquillamente si potrebbe essere con l'omega devil insomma non ce n'è uno che che terrei vendendo tutti gli altri sarei contento no o uno se si completa una vicenda uno servono tutti se anzi servono tanti ne servono tantissimi ne servono tantissimi perché poi a certo punto deve avere la possibilità di scegliere o tra tanti cioè mi piace la possibilità di scelta capito ma magari c'è sempre lo stesso però solamente il pensiero di poter scegliere tra tanti e ti rallegra la giornata no ti svegli che appena ti svegli la mattina subito o quale orologio mi metto oggi e ce n'hai 30 da scegliere capito se mi svegliassi con tre orologi che mai accada nella mia vita di trovarmi così in basso con tre orologi cosa è con que tre poi magari uno va in tre visione ce n'è più che due o ma cosa succede in cominciare ti trema la terra sotto i piedi cioè non puoi resistere capito più che io lei è penultimo per oggi ti faccio vedere questo frank muller top frank muller orologiaio italo svizzero assia la maison è nata nel 92 può piacere o meno con questa cassa tonno però questo purtroppo è il quadrante chiuso non posso fartelo vedere io l'ho aperto ponti in platino orologio veramente ben costruito e non ho dubbi agli indici blu ecco forse così li riesci a vedere grandata tra l'altro frank muller detiene ancora il record per l'orologio da polso con più complicazioni con il suo eterna terna mi sembra si chiamasse 36 complicazioni 1490 parti meccaniche circa in dubbia qualità diciamo orologiera può piacere o meno ma è un orologio molto elegante quadrante madreperla ponti in platino edizione limitata a mille esemplari perché porta il doppio disco della data a differenza degli altri sintri e culbex la grandata tra l'ho detto bello bello poi dimostro il mio l'unico coronato collezione è questo oyster perpetual da 41 eccolo qua ora uno dice no uno potrebbe basta un unico orologio sto qua è perfetto potrebbe anche essere l'unico orologio da 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 indossare per sempre semplice essenziale di qualità bello a vedersi di pregio perché uno dovrebbe averne cioè a me piace l'ostere perpetua 41 è uno di quelli orologi che mi piace cioè a volte ora non ora ma a volte capita che ci pensi è però un bel ostere perpetua 41 poi non lo prendo perché insomma è come avere un day just no è uguale praticamente c'è uguale a grandi linee no fortunatamente io ho il day just con la ghiera zigrinata il bracciale jubilee e in acciaio e oro per cui sarebbe completamente differente ma quando avevo il day just blu col bracciale oyster e la ghiera liscia era molto simile no c'era solamente la data in più cosa ci vuoi fare non è che c'è tutte quelle differenze è che però adesso magari potrebbe essere anche essere no però no cioè non è che lo voglio prendere però è uno di quelli che mi piace però è anche molto semplice poi c'è anche l'explorer che più o meno è fatto così insomma capito siamo un po scontrare ci sono altre cose prima un bel panerai che completamente diverso da tutto quando faccio i centomila iscritti piglio panerai da per forse tutto satinato perfetto daily watch 41 in realtà e 39 di mandare una foto con il calibro vicino bravo non mi dilungo su questo perché voglio dire rolex per quel che se ne dica effettivamente ti accorgi della qualità quando indossi indossi un orologio quando gli dai la carica ultimo per oggi dimostro questo richiesto dalla tua giovannetta illuminatore panerai referenza 00 001 e nel marasma delle referenze panerai ho scelto questo perché rispecchia in pieno gli stilemi della vecchia panerai questo è il primo modello della della post vendom e questo rispecchia tutti i vecchi stilemi d'eccezione della secondina che per me è imprescindibile perché è bellissima quindi questo qua sarebbe il corrispondente della attuale referenza 915 correggetemi se sbaglio perché mi sembra che le caratteristiche sono quelle a vederlo così e sì secondo me è uno di quelli che mi piace di più c'è una marea di di referenze di varianti cioè io mi perdo veramente quando apro la paginata del sito web no solamente del sito web ufficiale adesso con quelli a catalogo mi perdo mi perdo tra le impermeabilità e il diametro della cassa e questo e quell'altro se condina si si condivano gmt non gmt mi perdo cioè non riesco più a capire qual è veramente quello che mi interessa poi se invece vado a vedere l'usato nel secondo polso allora poi li si inseriscono altre referenze che non conoscevo nemmeno che mi vanno a sballare tutto ma come questo qua dove la differenza perché si chiamano diversamente poi magari vai a scopo uno c'è la cassa la cassa bettarini uno no è casino eh vabbè comunque questo qua mi piace poco ma sicuro vederlo girare è bellissimo quadrante sandwich fondello chiuso 300 metri di impermeabilità ma poi sul mio polso questa cassa 44 è perfetta devo dirti che è un orologio fantastico sì anche a me mi ci vuole provalo te ne innamorerai io ho finito davide un caro saluto a te e a tutta la community spero di non essere stato troppo lungo e non lo so ci siamo divertiti un caro saluto ciao ciao caro ciao carissimo bel bel orologio bella collezione sono riuscito a capire che probabilmente mi ci vuole 44 vedai imparerai deve essere così deve essere bello vistoso così e poi l'amico c'è anche il posto da 19 5 quasi come il mio che ce l'ho da 19 si deve essere così dai parerai 44 mm va bene di più non oso di meno boh forse poi magari se trovo un 42 occasionissima magari faccio un 42 non lo so dai da tutto da vedere comunque tu ero oggi non ti si può dire niente parerai rolex tudor scusa un secondo nemmeno nemmeno un omega no perché non mi ricordo mica più se lo visti non c'è nemmeno ah c'è lo speed master c'è lo speed master ti sei salvato in corner con lo speed master perfetto nomos rado e frank muller ragazzi ma cosa ci si può dire sto qua si può dare un bel 9 io gli do un bel 9 ditemi se sono di manica larga o di manica stretta però 9 se lo merita è l'amico a parte l'esposizione un pochino lenta ma questo è un classico degli amici della campagna che prendono la vita un po cosino con calma cioè calma ragazzi quindi l'esposizione lenta però mai noiosa bravo no tutti oro tutti orologi che vorrei come il mulino bianco uguale tutti orologi che vorrei anche frank muller piacerebbe così il tudor royal ti dicevi bla 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 si bello però approvato tutto quello che vuoi però fanno anche la versione senza numeri numeri romani quindi se io dovessi scegliere un tudor royal prenderei quello senza numeri romani esiste sì che esiste come il tudor black bay 41 con la ghiera rossa cavoli se lo vendono col suo bracciale bellissimo simil jubilee che un pochino no tutto segmentato è suo bello veramente ghiera rossa con quel bracciale lì spacca tutto te l'hai preso col cinturino non dirmi che l'hai preso senza bracciale perché hai fatto una cappata gigantesca nel senso che ti conveniva comprarlo col bracciale poi metterci un cinturino come ti pare a te ogni tanto no ora se vuoi metterci il bracciale che non l'hai preso a comprarlo ti va via un rene ma un rene oh che il nome te l'ho dato bravo bravo amico sei promosso amico motociclista bravo ciao davide mi chiamo giacomo da sarongo ti seguo da poco tempo poco e ti faccio vedere questo video vai per farti vedere i pochi orologi che ho non sono un collezionista non sono non mi definisco un appassionato ah no però ho sempre l'orologio al polso non mi definisco un appassionato ma cioè come quelli che ti mandano affanculo sì ma senza con rispetto è però cioè ma cosa vuol dire non mi definisco un appassionato però sempre l'orologio al polso mi mandi il video quindi cioè ci vorrà una spinta di volontà tale per realizzare e mandarmi un video sei un appassionato dai non nasconderti dietro un dito su vedo come una necessità mi piace sempre sapere che ore sono e odio arrivare in ritardo ho capito ma quello per me l'orologio è principalmente uno strumento bugiardo ti faccio vedere questo orologio sì sì hai ragione uno swatch che uso per lavori domestici o lavori pesanti pesando da non rovinare gli altri orologi mi piace anche esteticamente enorme è un 47 e ha qualche difetto uno è fa molto rumore non lo supporto di notte e l'altro è solo resistente a tre atmosfere e mi sono accorto andando col windsurf che entra umidità passiamo un altro quarzo eco drive un citizen e anche questo impegnativo 45 mm e lo uso per andare in ufficio ogni tanto secondo me con la camicia si nota di meno di dimensione l'orologio comunque mi piace agli difetti è pesante non riesco a leggere bene il datario non ha la lente ho provato a chiedere se si potesse mettere ma mi è stato detto di no la ghiera è finta ed è praticamente pesante ok passiamo a un automatico eberhard non funziona l'ho ereditato è un orologio che terrò non lo venderò sicuramente ha un valore effettivo e qui volevo farti una domanda non so cosa non so se vale la pena farlo riparare sicuramente anche se dovessi farlo riparare poi non lo userei perché è un tre atmosfere mi sembra delicato come orologio e io gli orologi li li distruggo sì a me non mi piace come è il tuo modo di approcciare cioè come vale la pena è un cronografo della eberhard sto qua è un tazzo nuvolari cioè come perché perché non ne vale la pena ne vale la pena sì il miglior orologio che c'hai di quelli visti finora ma anche migliori di tanti che ho io quindi non vedo perché ogni ogni centesimo speso per sistemarlo è un centesimo speso bene tanto più che poi è un lascito voglio dire vogliamo portare rispetto a un orologio ricevuto in eredità non lo userei perché altre atmosfere lo usi lo usi nelle situazioni alle quali non sai che non devi scalare le montagne cioè se andato a fare windsurf con quella ciofeca se andato a fare gli è entrata l'acqua dentro sarà anche da buttare via voglio dire è logico che se non utilizzi l'orologio nel contesto per il quale è stato pensato e se te che sbagli non ci può andare a fare tuffi dallo yacht no oppure dal trampolino in piscina non c'è non ci vai non lo utilizzi ci saranno delle situazioni che sei a casa tranquillo a vedere la televisione o che dici va oggi vado al centro commerciale a fare un giro con la mia moglie ho visto che c'è la fede con la mia moglie e te lo metti vado a fare una perete lo metti un aperitivo ma come che discorso è cioè ti metti il caso per le situazioni più gravose ti metti quel cos'era lì quel citizen mezza ciofeca un orologio serio questo qua non ti capisco si ragazzi datemi datemi manforte mettete un 7 qua sotto se ho ragione io scrivete 7 vuol dire che ho ragione io però attendo un tuo consiglio che ho dato consiglio passiamo al penultimo orologio per ultimo rolex gmt2 ma è più per il culo me l'hanno regalato ai tempi di liceo quindi anni 90 l'ho usato pochissimo adesso solo il giorno di della laurea sarà vero molto bello questo orologio è un po pesante per i miei gusti e non lo metto mai perché ho paura di rovinarlo ero anche tentato sono anche tentato di venderlo chiedo un tuo consiglio su se vendolo oppure no e se lo devo portare a fare revisionare perché non l'ho mai fatto revisionare però è sempre stato fermo a parte adesso e per farlo revisionare altro consiglio che ti chiedo se portarlo proprio la rolex oppure da un orologio di fiducia ce n'è uno dove abito che è molto valido non lo so io non ho idea di che anno sia non sono in grado di datarlo così a prima vista sicuramente ha bisogno di una revisione se è un po di tempo se sono almeno cinque anni che è stato fermo lì io farei lo farei revisionare cioè proprio veramente te l'hanno regalato e non l'hai mai usato cioè anche questo qua è veramente mi mette sconforto perché cioè voglio dire uno c'è un bello orologio così e non gli è mai fregato di perché ha paura di rovinarlo e allora cosa cosa lo vai a fare revisionare se poi tanto lo fai revisionare poi lo rimetti nel cassetto altri dieci anni se non lo stai o venderlo vendilo cosa vuoi dire vendilo però a vedere tutta questa manca questa mancanza di entusiasmo ecco la mancanza di entusiasmo mi mi spegne cioè mi anzi mi fa alterare mi fa alterare perché c'hai due orologi come belli come l'Eberhard cronografo il rolex gmt e non si è appassionato non riescono ad appassionarti queste cose qua va non so e passiamo l'ultimo orologio quello di più che uso spessissimo ed è un promaster citizen molto leggero perché in titanio con vetro in zaffiro è un orologio che trovo molto comodo e indistruttibile mi è già caduto più volte o becco anche picchiato forte sul vetro non si è fatto assolutamente nulla mi sembra indistruttibile due piccoli difetti uno è che essendo full lume di notte faccio fatica a leggere l'ora sembra paradossale ma è più facile con questo orologio leggere l'ora di notte col full lume io poi sono un po' ciecato quindi senza occhiali ci vedo poco l'altro difetto è che guadagni 8 secondi al giorno che per un automatico insegni essere normale però un po' mi da fastidio ma come ti da fastidio e avere cinque minuti di differenza tutto qua quindi questi sono gli orologi che ho se puoi darmi qualche consiglio ti ringrazio buona giornata e che consiglio ti devo dare io non lo so mica io 8 secondi al giorno ti sembrano tanti perché poi alla fine del mese diventa cinque minuti perché perché così impari perché noi alterniamo gli orologi così talmente velocemente che non fa in tempo ad arrivare cinque minuti dopo un mese perché chi lo tiene un mese un mese di seguito l'orologio al polso non esiste dopo qualche giorno cambi e così non ti accorgi no 8 secondi a parte gli scherzi sono veramente pochi per un orologio automatico meccanico e specie per un citizen che c'è quel miota lì dentro mezzo scrauso 8 secondi date anche bene poi arrivare anche 30 35 e nessuno ti poteva dire niente cioè sono 35 secondi casa meno meno sistemi no no siamo nelle tolleranze tienilo pure così 8 secondi al giorno finalmente un orologino che utilizzi che come come si deve il pro master lì ma io ti do 5 allora io ti do 5 io 5 anche se c'è il rolex e le berard che chiaramente ti hanno regalato ti do 5 perché non li sai apprezzare per la tua mancanza di di voglia nell'applicarti a capirli a capirli cioè comprenderli due orologi stupendi uno lo vuoi vendere non sai se revisionarlo e le idee confuse e le idee confuse io poi chi mi chiede di consiglio a me il mio consiglio qual è non lo so perché veramente si non ti manca la passione ti manca ora all'inizio all'inizio ho detto che è impossibile che mandi un video e non sei appassionato e adesso convengo con te che non sei appassionato ti manca qualcosa ti manca comprati comprati l'orus al quarzo i vagari al quarto i citizen ecodrive comprati quelli vendi vendi il gmt con i soldi che ci fai ti compri una sterminata 100 citizen ecodrive uno per ogni giorno dell'anno e sei contento non so cosa dirti sinceramente perché quando vedo che manca l'entusiasmo così la passione è anche inutile che ti do dei consigli perché non li capiresti è inutile che ti vado a dire spendi 800 euro mandalo in casa madre il rolex e così ti torna nuovo cioè nuovo è già nuovo ti torna bello revisionato lo puoi utilizzare con piacere no perché te non lo utilizzi con piacere quindi è inutile che ti dico di spendere quei soldi li spenderesti anche malvolentieri proprio come è come quando prendi una multa no a contravenzione li spendo perché li devo spendere malvolentieri qua uguale devo fare la revisione perché devo fare la revisione per forza li spendo ma non li vorrei spendere io invece quando faccio fare un intervento un orologio li spendo volentieri cioè andate via soldi andate via dalle mie mani e fatemi tornare l'orologio bello funzionante questa differenza di passione ciao davide buongiorno sono daniel dell'inghilterra ho già mandato un video per presentarti parte della mia collezione volevo presentarti il resto dei miei orologi vai questo qui è un seiko quartz l'ho comprato in un mercatino dell'usato qui in inghilterra l'ho trovato per soli sette sterline e me ne sono innamorato e attualmente probabilmente tra uno degli orologi che continuo a stimare e amare di più nella mia collezione si è messi male dopodiché ti presento un altro piccolo seiko bellino anche questo anche lui è un vintage è un seiko quartz del 1979 tanta roba un piccolo orologio di forma con il suo bellissimo bracciale jubilee semplice just day just day qualcosa di semplice elegante versatile bellissimo affabile il prossimo orologio è un orologio che mi è stato lasciato da mio nonno è un ebrard in oro anche lui just date io credo che just date sia la data sia una cosa essenziale nell'orologio la adoro vedi come siamo diversi c'è chi non la sopporta chi la adora io sinceramente sono mia abbastanza indifferente cioè quando faccio anche le panoramiche mi sentite dire bella la data ore 6 perché rende simmetria al quadrante ma se ha poi invece ad ore 3 non importa sai l'orologio mi piace ugualmente se non c'è la data mi piace a volte mi piace anche di più senza data però non è che mi faccio fermare della presenza della data anche qualche ecco magari mi comincia a dar fastidio quando la spostano tra il 3 4 tra il 7 e l'8 ne ho visti no capisco anche che però le specifiche dei diver però a quel punto non mettercelo hai capito insomma dipende dall'orologio non è che ho un dogma della data si data no data posizionata là o no dipende dall'orologio lo spirit ad esempio mi piace quella data ore 3 bene perfetto così quell'altro senza data perfetto così questo qua c'è la ore 6 perfetto così è l'orologio che mi piace no se c'è o non c'è la data no sono dettagli che ecco non mi fanno la differenza molto piccolino forse per il mio polso ma per ciò che ha rappresentato mio nonno per me questo è l'orologio più di valore che io nella collezione lo amo lo conservo non lo venderò mai e allora perché detto il primo che stimi e ami più di tutti la bugia è questo il prossimo orologio è il primo orologio meccanico ai racquarzo le berard che ho avuto in collezione e questo orient kamasu che tutti hanno in collezione diciamo dei date rosso a canciante bellissimo bellissimo simpatico bello si affabile gioviale prossimo orologio che ti mostro so che a te non piace il brand è un venezianico nereide alla ghiera in tungsteno è un bellissimo orologio per me ho preso in quanto il suo quadrante con questo blu madre perla richiami le onde del mare e siccome qua in inghilterra si siamo sommersi dal mare abbiamo il mare da tutti i lati ma non c'è niente a che fare rispetto al mare che abbiamo in italia e io da buon calabrese bravo posso dirti che questo quadrante mi ricorda il mare delle mie parti e perciò non ho potuto fare altro che comprarlo e portarmi un pezzettino di mare sul polso bravo prendiamo il bicchiere di mare tra portare a casa facili prima dopodiché ho preso un hamilton hamilton kaki field automatic 42 mm questo è sopra il tuo consiglio di acquisto ne sono rimasto molto contento diciamo che probabilmente l'everyday watch per eccellenza classico versatile bellissimo quasi un tool watch l'ultimo orologio che ti voglio mostrare probabilmente l'ultimo acchiappone questo bellissimo vostro anfibia un orologio commemorativo per il disastro di cernobil micchia che allegria ti nel suo retro possiamo vedere questo bellissimo disegno è il motivo per cui l'ho preso e soprattutto perché indica l'anno e il 1986 è il mio anno di nascita ci ho abbinato questo bellissimo cinturino shark lo adoro lo adoro simpatico per ora è tutto volevo solo farti una domanda perché voleva aspetta un po prima della domanda fai un po spendere due parole per questo questa macabra commemorazione come si fa a fare un orologio per commemorare il disastro nucleare di cernobil cioè sinceramente io non comprendo questa cosa poi dietro c'è il suo bel reattore con il simbolo della radioattività secondo me non ha senso avrebbe più senso se uno vuole ricordarsi di quella tragedia trovare un orologio dell'86 che attinente a quella situazione con questo qua è stato venduto perché cernobil e in ucraina nell'86 nel negozietto di vicino a cernobil bla 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 oppure era indossato stato piuttosto che una un orologio fatto ai giorni nostri che con le effigie del del reattore nucleare di cernobil sinceramente non mi piace a comprare il primo orologio di lusso ma non so come poter scegliere ho tantissimi orologi che mi piacciono e logicamente affrontando una spesa di quel genere mi ritroverò a non poter acquistare più orologi per un lungo periodo di tempo tu come fai a scegliere sì questo è l'orologio che voglio che cosa ti porta a dire sì voglio indossare questo per cinque sei dieci anni prima di poter comprare il prossimo orologio dieci anni voglio io purtroppo la mia scimmia ha dei grossi problemi ha molta fame e vuole tanti orologini e perciò non saprei proprio come poter scegliere chiedo un consiglio grazie ti auguro una buona giornata e continua così hai chiesto il consiglio ma io non lo so proprio veramente come fai a scegliere allora gli ultimi gli ultimi orologi che mi sono capitati è perché mi è capitata l'occasione di qualcuno di una situazione che era in vendita che ho detto poi dopo non mi capita più come l'explorer che ce l'aveva il mio amico simone mi ha detto devo prendere un altro orologio lo vuoi e io mi sono trovato lì così a fare conti e prenderlo l'ho preso con gran piacere perché tanto prima o poi l'avrei voluto no però anticipato i tempi e ho cancellato tutte le altre situazioni in cui ero oppure no per esempio il santos l'ho deciso io su due piedi però anche lì stavo cercando o il santos o il panerai oppure guardavo anche cioè gli orologi che mi piacciono li soli conosco guardavo il globo master acciaio e oro guardavano finché non è capitata l'occasione del dell'orologio migliore al miglior prezzo nella migliore situazione vicino anche perché io non è che vado non lo posso prendere della francia io voglio vado lì lo prendo con mano l'orologio quindi cercavo una serie di situazioni no che io non posso darti un consiglio ognuno è fatto a maniera differente magari ti metti in testa quei tre quattro orologi poi te ne capita un quinto che non l'avevi mai messo in conto lo trovo ti folgora compri quello poi il discorso che come fai a scegliere uno poi per 6 7 8 10 anni non ne compri altri questa è la cosa che vale per te perché io se mi sente la mia scimmietta qua si suicida tappati le orecchie perché non esiste lo puoi anche pensare lo puoi anche pensare ora per un po non ne compro più ora domani smettono domani smetto però poi in realtà non è così sempre se la situazione economica lo concede ma se non lo concede poi ti trovi a sacrificare sull'altare qualcuno di questi altri orologi che avevi accettate nel collo lo metti sull'altare sanguinante e ne prendi un altro funziona così allora per la collezione ti do un 6 e mezzo per adesso ti do un 6 e mezzo in attesa di questo super pezzone che dovrei prendere che non sono un'idea dei tuoi gusti della tipologia diver cronografo classico non ne ho idea cosa vuoi quindi attendiamo che ci mandi questo bellissimo nuovo orologio dalla ingland nel frattempo ti becchi un 6 e mezzo che mi sembra più che più che sufficiente lo dice il numero stesso 6 e mezzo dai prossimo video ciao davide sono maurio da londra in questo video vorrei presentare quattro dei miei orologi che seppure in trilevel li reputo interessanti e soprattutto potrebbero sostituirsi alle ciovecche di aliexpress il primo dei quali è il momentum cquartz che è un orologio particolare per essere l'ommage del più noto crono sport cquartz 30 che a sua volta è diventato popolare per essere indossato essere stato indossato nella serie magnum pi da tom sellec un'altra particolarità di questo marchio è che a quanto pare i membri della famiglia che allora producevano il crono sport hanno riportato in vita il marchio sotto il nome momentum anche se non capisco perché hanno cambiato il nome e appunto hanno riofferto sul mercato il cquartz 30 al costo di poco più di 250 sterline secondo me sono tutte balle secondo me se esiste quello lì di magnum pi è quello che dici te che io non ho mai visto non sono non so proprio assolutamente di cosa stai parlando quindi si presume che ci fosse un orologio fatto in quel modo di una certa marca e qua c'abbiamo un omaggio che la coppia uno a uno di quell'orologio che non conosco fatto da un'altra marca che si è inventata la storia della famiglia che insomma per me accio feccato data basta secondo nonché uno dei miei preferiti è questo citizen cronografo eco drive della famiglia chiamata record label e questo è un citizen riservato per il cosiddetto japan domestic market io l'ho comprato durante un viaggio in giappone penso che sia possibile trovarlo tramite ebay da qualche parte al prezzo di più o meno 200 sterline io ho aggiunto a questo l'orologio il bracciale stile leather della forstner cosa più bracciale che loro loro secondo me è proprio la morte sua vabbè metterlo lì poi un altro orologino è questo new mark cos'è lo water king new mark è un brand storico inglese che è morto tanti anni fa e recentemente è stato riportato alla luce probabilmente gli orologi sono assemblati 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 in asia però la qualità è veramente eccellente questo è un waterproof 200 metri corona a fondello a vite movimento miota serie 9000 no date quindi non c'è la data fantasma al prezzo di più o meno 330 sterline l'ultimo è questo seiko 5 che ho comprato in un negozio online online che ha chiamato credo che è creative watches o qualcosa del genere questo è un made in japan 100 sterline è veramente simpatica troppo carino il fushitsubo te l'avevo già presentato un paio di anni fa quando ti mandai il mio primo video e lo squale anche quindi tutto qui grazie un saluto a tutti un saluto a tutti io quei due lì non li conto ti do un 5 oggi sono oggi mi è presa ormai la deriva la deriva cattiva 5 perché mi ha fatto vedere newmark momentum sono oggi evitabili citizen di quel cronografo secondo me 200 sterline ci ha messo a bracciare e poi da ultimo cos'era mi sono anche dimenticato cos'era il secco 5 c'erano tutti quei secco 5 5 secco 5 5 ti do tutto perché non voglio contare il citizen lo squale lì che mi aveva già presentati contro quei quattro lì non so nemmeno cosa dirti io sinceramente sono fatico a comprendere gli acquisti di orologi un po così come un momento mi rimane c'è fra i tuoi motivi cioè per l'amor del cielo te vedi sei fissato con magnum pi l'orologio che aveva magnum pi quindi questa qua è la replica fatta dalla stessa famiglia cosa che a me proprio mi non mi tangeva minimamente proprio e me l'hai fatta notare te perché altrimenti non era conoscenza di queste cose quando però ognuno di noi è fissato è appassionato determinati contesti nei quali per i quali un orologio così e diventa importante quindi nulla da dire dai poi per il resto 5 te l'ho dato magari torna più preparato la prossima volta se è rimandato a settembre ok dai ragazzi per oggi finisce qua perché sennò non è che si può stare a vedere gli orologi cioè all'infinito a un certo punto bisogna andare anche a maneggiarli quindi vado di la me ne provo uno sistema metto quell'altro provo il cinturino faccio le cose poi decido uno da mettermi per stasera ok va bene e nel mentre faccio queste cose metto su instagram i gattini sottofondo miau miau bau bau corrono saltano e io sistemo così gli orologi cambio il cinturino guardo questo faccio io nella vita questo faccio e se non vi va bene viva nenè ragazzi io vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti ciao 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 ciao